Uno era parroco di un piccolo paese alle porte di Lecco, chiuso, ed era conosciuto da tutti per la sua pietà, per la sua umiltà, per la sua carità. L'altro invece era uno scrittore, un poeta destinato a diventare uno dei romanzieri più famosi in Italia e non solo, rampollo di una famiglia agiata e illustre. Stiamo parlando di Don Serafino Morazzone, che è stato beatificato nel 2011, e di Alessandro Manzoni, l'autore del romanzo I promessi sposi, immortale. Ebbene, cosa hanno a che fare questi due personaggi, queste due figure così diverse fra di loro? Ebbene, noi sappiamo che i due si conoscevano e che Don Serafino Morazzone, direttamente o indirettamente, è stato veramente molto importante per la vita di Alessandro Manzoni. Fra i due c'erano oltre 30 anni di differenza, di età. Manzoni è vissuto da bambino, ma anche in parte della sua giovinezza, a Lecco, nella villa di famiglia del papà Pietro Manzoni, che aveva appunto tutta una serie di possedimenti nella zona, anche a Chiuso. Ed ecco allora che probabilmente proprio in queste visite che papà Manzoni faceva nella parrocchia di Chiuso c'è stata la possibilità anche per il piccolo Sandrino di conoscere questo sacerdote. Evidentemente è rimasto proprio colpito dalla sua personalità, dalla sua devozione, un uomo di Dio straordinario nella sua missione ordinaria. Achille Ratti, papa Pio XI, che è stato anche prefetto dell'Ambrosiana, in quanto studioso era convinto che il curato di Chiuso sia stato anche il confessore di Manzoni quando proprio era adolescente e giovane, nel momento quindi fondamentale del passaggio della sua conversione spirituale. Di questo non sono ancora state trovate testimonianze, ma ci rimane ad esempio una lettera struggente, bellissima, che il curato di Chiuso ha scritto proprio ad Alessandro Manzoni per chiedere la grazia, per intercedere per un uomo che non poteva pagare un suo debito. Al di là di quest'unica testimonianza però ci sono le parole stesse di Manzoni. Nella prima stesura dei Promessi Sposi, quella nota come Fermo e Lucia, c'è un bellissimo, struggente, commovente ritratto proprio di Don Serafino Morazzone. Solo chi l'aveva conosciuto, chi l'aveva amato può aver scritto delle parole di questo tipo. Quel ritratto poi non lo ritroviamo invece nella versione definitiva dei Promessi Sposi e ci è sempre chiesti come mai, perché Manzoni a un certo punto ha tolto questo riferimento a Don Serafino Morazzone. Una risposta precisa non c'è. Possiamo pensare però che alla fine abbia ritenuto che era anacronistico trasportare una figura contemporanea conosciuta da molti, da tutti nella zona di Lecco due secoli prima, cioè appunto nel Seicento quando si svolge la vicenda dei Promessi Sposi. Senza contare che poi c'è il ritratto di un altro santo sacerdote, pastore, che è il cardinale Federico Borromeo e forse può aver ritenuto che due figure così insieme era effettivamente anche eccessivo. Fatto sta che rimane questo rapporto bellissimo, tutto ancora da indagare, da studiare, proprio fra il beato Serafino Morazzone, che il cardinal Schuster definiva il novello curato d'Arse e il grande scrittore Alessandro Manzoni. Rileggere la prima versione di Fermo e Lucia può darci informazioni e anche recarci direttamente sul posto a chiuso, dove c'è la chiesa, dove c'è la canonica, che oggi è un piccolo museo proprio dedicato alla memoria del beato Serafino Morazzone.